Ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video Voi avete finito i compiti? A me mi mancano 6 pagine Io oggi li faccio tutte Scrivetemi nei commenti se li avete finiti A me mi mancano 6 pagine ho finito Io tanto li faccio oggi Allora ho comprato degli squishini E adesso ve li faccio vedere Allora Abbiamo questo squishy Biscottino anzi subito dopo il video faccio i compiti E li finisco Poi nel prossimo video dirò Vi è finito Vabbè allora Questo biscottino qui molto carino Che dal telefono Cioè si vede un giallastro Ma è marrone ragazzi Ecco vedete Forse perché c'è troppa luce Ed è così con la faccia imbarazzata Ed è molto slow rising Eccolo qui Eccolo qui Lo devo rimettere Perché ci si levano Cosa io ho fatto Mettiti Ok No mettiti Molto bene Molto bene Anche gli squishini di Santa Maria Si è levato uno Un coso si è levato Allora Allora ecco Ecco Questo gattino Questo gattino Che non me ne era accorta Credevo che la confezione era sporca Ma invece il gattino Ed è sporco Vabbè non fa niente Questo gattino Molto kawaii E' puccioso Comunque è slow rising Ah E' strabello Poi 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 Vediamo che prendo Abbiamo questo coniglietto Bellissimo No Non ti levare Non ti levare E si è tolto Si è tolto Vabbè Allora Il portachiavi Si è tolto Uffa Leviamolo Eccolo Ed è questo coniglietto Molto carino Anche questo Kawaii è verde Qui è liscio E qui è ruvido E' bellissimo E' anche lui morbidissimo E' abbastanza slow rising C'era anche fuxia Solo che l'ho preso verde Perché questo Cioè Quello non era per niente morbido Slow rising Io invece questo E' abbastanza slow rising E mi piace un sacco Poi 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 Abbiamo Questo macarone gigante Perché io ho comprato Un macarone Però tanto tempo fa Quattro mesi fa Cinque mesi fa Che era piccolo Così tipo Che era piccolino Ed era Rosso Invece questo E' rosa Ed è grande E' bello Questo è un po' più slow rising E ha sempre il portacchiavi Proviamolo a squisciare Molto bello Molto rilassante Da squisciare Questo macarone Ah però Non tanto perché qui Questa parte E' fatta di silicone Quindi Senti un Un coso duro Che Cioè Tocchi un coso duro E dici Ma che è sto coso Io l'ho capito dopo Troppo bello Adesso ho lasciato Per ultimi I più belli Di tutti Allora Questo che Esistono Anche quelli Originali Di questo Esistono anche Quelli Originali Già il tasto Questo è meravigliissimo Ed è bellissimo E' molto Kawaii Che fa Tipo Con il fiocchetto Quindi Femminuccia Guardate È Slow Slow Sleurisissimo Proviamo Oh mio Oddio E' bellissimo Che Basta Che Sennò Te Devo stare qui A squisciarlo Per ore E adesso E adesso Gli squisci Più belli Che io Non credevo Che Dari cinesi Si potessero Comprere Questo Che io lo volevo Comprare Su ebay Lo stavo Per comprare Perché Non lo trovavo E lo volevo Tantissimo Questo Perché Ah È bellissimo Perché Vedete È bello grande Guardate È bello grande È bello grande Ed è Qui Alla parte rosa Tipo a fragola E la panna Tipo i gelati Che si prendono Dai che ha Panna E fragola Tipo Ste cose qua Ed è Bellissimo Ragazzi Veramente Cioè Su ebay Due euro Qua un euro Oh mio dio Ah quanto è bello E per di più Anche slow rising Beh Su ebay Forse due euro Perché quello Era più grande L'ultimo Che mi ha colpito Di più Cioè Non l'ho mai visto Almeno Questo L'ho mai visto Il funghetto Il funghetto Credo Che Nessuno Ancora C'è Però No Per Dire Ah ah Io ce l'ho Gli altri Non credo Però Cioè Se ce l'hanno Va bene Non fa niente Cioè Non voglio essere L'unica Che ha sto coso Paura che si Che si Aiuto Ok Le confezioni Le confezioni Quasi distrutte Cioè Al tatto Ragazzi È anche Questo Stramorbido Allora Così Fucsia Con i puntini Rossi Ecco E qui è bianco Quanto è bello Allora Qui siamo prima Qua Devo dire che Qui è un po' Più duretto Al tatto Questo Qui è più morbidino Vedete E io Una cosa Guardate Forse ritorna Prima il guscio Si ritorna Prima il guscio Aspettate Si Aspetta Si Prima il guscio Ritorna Questo È più Slow rising Vediamo Si ritorna Prima il guscio Il mio Dio È veramente Morbidissimo Questo Lo amo Alla Foglia Questo Cosa Questo Finghetto Lo amo Veramente Alla Foglia E vabbè Ragazzi Questi erano Tutti i miei squishy Spero che Questo video Vi sia piaciuto E se così Lasciate il like Quello che volete Voi E se volete Vi potete Iscrivere Al mio canale E vabbè Noi ci vediamo Al prossimo Video Ciao